L'associazione Idea.to ha presentato a Palazzo Lascaris il volume la ristrutturazione, linea e guida e strumenti di composizione della crisi d'impresa, dedicato all'azienda in difficoltà finanziaria ed economica. L'opera analizza le modifiche degli ultimi anni alla legge fallimentare e propone strumenti tecnico-legali al servizio della ricomposizione della crisi aziendale, secondo una metodologia già da tempo in uso nel mondo anglosassone.